Molestata mentre stava effettuando un prelievo di sangue all'ospedale di Arezzo, la vittima, una giovane ragazza, si è rivolta all'Associazione Aretina di Promozione Collettiva che ha raccontato la sua storia sul web. Una violenza sessuale fatta di palpeggiamenti osceni al centro prelievi del San Donato. Tutto sarebbe accaduto sabato mattina, come denuncia l'associazione guidata da Aurora Bui. L'uomo ha toccato la donna nelle parti intime con commenti riferiti alla sua fisicità, si legge e rivolgendo le domande relative alla sfera privata e intima, oltre che pesanti avanz, ha inoltre dichiarato di essere coniugato. L'ASL ha avviato un'indagine interna per risalire al colpevole. Per stessa ammissione delle vittime, purtroppo non ci sono testimoni oculari. Si comunica, leggiamo nel comunicato dell'ASL, che la direzione aziendale si è immediatamente attivata avviando un'indagine interna per verificare i fatti denunciati e le eventuali responsabilità del personale ASL. Se saranno accertate responsabilità, verranno presi provvedimenti di natura disciplinare con invio dell'esito delle indagini alla Procura della Repubblica. Sul caso interviene anche l'ordine delle professioni infermieristiche per bocca del suo presidente Giovanni Grasso. Piena solidarietà in primis alla ragazza che sicuramente ha subito questa violenza, pertanto la nostra è una volontà di stargli vicino e stargli accanto, soprattutto all'associazione collettiva che ha denunciato il fatto. Se si tratta di un infermiere, come emerge dal post Facebook proprio dell'associazione, noi agiremo come da legge, quindi partiremo a fare una sospensione addirittura alla radiazione qualora venisse verificato che fosse un iscritto opiarezzo chiaramente.